Palla letta di Simon Van de Bord su un Gapette, Bruno, ancora il francese, potente, su quel braccio, come velocizza, Bruno ci riprova, vediamo chi sceglie, sceglie lui un Gapette, palla un pochino, troppo vicino alla palla letta di un Gapette, la sfrutta ancora una volta, potentissimo, potentissimo. Ebbè sì, qui ancora deve iniziare a fa' scolare un po', Giannelli, sulla valutazione delle traiettorie a muro, vedete che disastro che compie, palla incidente che arriva verso la rete, regola basilare, mettere le mani su quel pallone, decise, lo rivediamo da questa angolazione, si vede molto ma molto bene. Salotto ancora per voi. Si poteva arginare questo missile terra-aria, Claudio? Secondo me è andata bene così, che non si sono fatti del male, perché era una palla tagliata veramente in diagonale strettissima, col muro a uno, sta dimostrando tutto il suo talento in campo ancora una volta al francese. Sono impressionato dal ritmo con cui sta giocando Vettori e in Gapette, veramente tanto coinvolti da Bruno, tutti stanno aspettando molto Lukas e invece lui va su Vettori e su in Gapette con grande regolarità.